Siamo allo Sport Volley, ultime ore di attesa per la partita più importante. L'Ube Civitanova alle 20.30 scende in campo all'Eurosuole contro Trento per gara 5 di semifinale Scudetto. Capaci di portare la serie sul 2-2 dopo aver perso in modo netto le prime due gare, i campioni d'Italia sono reduci dall'impresa in 4-7 alla BLM Gruppa Arena. E per non vanificare gli sforzi serve l'ultimo tassello a Civitanova. Gli uomini di Chico Blengini possono centrare il sorpasso decisivo di fronte al proprio pubblico. In caso di successo per i cucinieri si tratterebbe della quinta finale Scudetto di fila e prenderebbe consistenza il sogno del settimo tricolore e il terzo consecutivo. La squadra in un comunicato chiede la vicinanza e l'affetto dei propri tifosi per affrontare al meglio la sfida che potrebbe condurla in finale.